Grazie al bando Rigenerazione Borghi Storici, Piazza San Rocco a Parre si rifà il look, un nuovo marciapiede anche per il collegamento con il sito archeologico. A coleri gli investimenti si stanno concretizzando, nuovo impianto di innevamento e si attende l'ok per i lavori agli impianti. Domani è sabato, Rovetta dedica due giornate alla conoscenza, alla celebrazione della sua più celebrata famiglia di artisti. In programma visite guidate, attività per bambini, concerti e incontri di approfondimento. Amiche e amici di Antenna 2 TV, buonasera e ben ritrovati alla nuova edizione del nostro telegiornale. Come sempre in primo piano la cronaca perché dobbiamo raccontarvi di un anziano di 90 anni che ha perso la vita in un hotel a Bratto dove stava trascorrendo le vacanze. L'uomo accusato un malore mentre si trovava nella struttura alberghiera. Dare l'allarme è stata la moglie. Intorno alle 10 di oggi la REU ha inviato subito un'automedica all'ambulanza del corpo. Volontari Presolana, l'intervento dei soccorsi però non è bastato per salvare la vita all'uomo. L'uomo che è residente nel milanese e da anni trascorreva le vacanze a Castione del Presolana. Ci trasformiamo invece a Foppolo perché una ragazza di 16 anni in difficoltà proprio sopra Foppolo è stata recuperata ieri, mercoledì 17 agosto, dal soccorso alpino. La ragazza era partita con un gruppo di persone diretta al passo Porcile in fase di ritorno ha cominciato a avere dei problemi ad un ginocchio. In un primo tempo ha cercato comunque di scendere a un certo punto però ha deciso di chiedere aiuto perché non riusciva ad andare avanti. La centrale ha allertato i tecnici della sesta delegazione aerobica del soccorso alpino, 10 quelli impegnati nelle operazioni. Nonostante la disponibilità anche dell'elicottero della Guardia di Finanza non è stato possibile intervenire con mezzo aereo perché in zona la visibilità si era ridotta a causa della nebbia. Le squadre sono salite a piedi, tra loro c'era anche un sanitario del soccorso alpino. La ragazza è stata valutata e messa in sicurezza portata a valle poi con la barella portantina. Ci spostiamo invece a Valtorta perché intorno alle 14 di oggi pomeriggio è intervenuto l'elisoccorso nei pressi del bosco Frasnida. In seguito a una caduta in una zona impervia un uomo di 47 anni è stato raggiunto dall'elicottero trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII in codice giallo. È stato allertato anche il soccorso alpino della Valle Brembana e i carabinieri. Lasciamo la pagina della cronaca e andiamo a occuparci di quello che sono i fatti dei nostri comuni, dei nostri paesi qui in Alta Valle Seriana. Ci spostiamo a Parre perché grazie al bando di rigenerazione i borghi storici Piazza San Rocco si rifà il look. Un nuovo marciapiede anche per il collegamento con il sito archeologico abbiamo sentito le parole del primo cittadino proprio di Parre Danilo Cominelli. Abbiamo vinto il bando rigenerazione i borghi storici che ci permette di riqualificare in toto la Piazza San Rocco quindi con il rifacimento della piazza con una realizzazione di un lastrico formato da pavè di dimensioni abbastanza importanti in modo tale che anche gli automezzi possano passare. All'interno di questo progetto appunto c'era anche la realizzazione di questo marciapiede che collegherà appunto il nostro sito archeologico al nostro museo. È un intervento importante perché si parla di 300 mila euro tutto a fondo perduto e una minima quota messa dal comune di Parre che appunto ci permette di valorizzare la già bellissima piazza di Piazza San Rocco e si ritorna alla storicità quindi a una pavimentazione fatta in pietra. Quindi insomma la prima parte dei lavori è il marciapiede che stiamo già vedendo all'opera qui quando sarà ultimato e quali sono le tempistiche? Allora penso che nell'arco di una settimana il marciapiede potrebbe essere realizzato mentre per quanto riguarda i lavori della riqualificazione generale della piazza ci vorrà un parecchio tempo anche perché ci sono appunto come ho spiegato anche il passaggio di macchine e quant'altro quindi bisognerà bloccare il traffico. Penso che nell'arco di un mese, un mese e mezzo i lavori potrebbero essere terminati. Quindi insomma prima dell'inverno anche Parre avrà una piazza nuova? Assolutamente sì, è proprio quello a cui puntiamo di non arrivare sotto stagione perché i lavori purtroppo so che a volte creano anche dei disagi ma se non vengono fatti nei tempi consoni si rischia appunto di arrivare quando le perturbazioni magari diventano importanti anche se ne abbiamo bisogno in questo periodo però ecco chi lavora ha bisogno di una situazione meteo congeniale quindi si spera proprio di finire i lavori per la fine dell'anno. Vogliamo dire che è una piazza anche strategica dal punto di vista degli eventi perché si presta ad essere una vera e propria corte? Sì esatto, riusciamo ad organizzare nel corso della stagione alcuni eventi soprattutto durante le feste dell'assunta di San Rocco durante appunto Ferragosto dove si riesce a chiudere momentaneamente la piazza e si possono fare concerti sia dal punto di vista delle bande ma anche concerti canori e soprattutto anche qualcosa relativamente alla cultura quindi con delle letture importanti o delle manifestazioni che poi la biblioteca porta avanti ormai da diversi anni. Da Parre ci spostiamo in Val di Scalve, siamo stati a Collere perché gli investimenti si stanno effettivamente concretizzando, mi riferisco agli impianti di risarita e si sono iniziati i lavori per l'innevamento artificiale e si attende l'ok per gli impianti. Il servizio? Sì, gli impianti sono chiusi ovviamente perché sono iniziati già da qualche mese i lavori afferenti al rinnovamento dell'impianto di innevamento programmato. Mentre poi a fine luglio c'è stata l'assegnazione della concessione alla società RS Impianti e a metà, proprio in questi giorni, è stato presentato il progetto definitivo per la sostituzione degli impianti di risarita ed ora siamo passati, siamo in attesa delle relative autorizzazioni. C'è stato un consiglio comunale aperto chiaramente a tutti i coleresi in questa settimana dove effettivamente immagino che la domanda più gettonata sia stata quando iniziano i lavori, quando si parte ufficialmente. Sì, allora il consiglio comunale è stato partecipato e questo mi ha fatto molto piacere. Chiaramente alla fine del consiglio comunale c'è stato un dibattito tra l'amministrazione e i cittadini e la domanda è stata proprio questa. Io ho spiegato lo stato dell'arte senza fare promesse che non si possono mantenere, anche perché ora non dipende dal comune ma bensì da tutta una serie di enti sovracomunali che devono dare i loro pareri. Chiaramente a livello anche paesaggistico immagino? Sì, noi tenete presente siamo in una zona molto vincolata dal punto di vista paesaggistico, qui appena sopra siamo già nel Parco delle Orobie Bergamasche e appena sotto inizia poi la rete Natura 2000 con i siti di interesse comunitario e le zone di protezione speciale, per cui bisogna fare molta attenzione e bisogna avere tutte le autorizzazioni del caso ovviamente. In un anno è cambiato il mondo, stiamo provando a finire di cambiare il mondo, sicuramente lo cambieremo. Dopodiché nel frattempo noi comunque come comunità montana già a partire dall'aprile del 2021 avevamo messo le basi con Regione Lombardia per il discorso legato al patto territoriale. È una notizia proprio giunta a fine luglio che la giunta regionale ha deliberato l'adesione a questo patto territoriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che sul territorio della comunità montana di Scalve arriveranno circa 6 milioni e 900 mila euro da parte di Regione Lombardia, di cui 4 milioni e mezzo destinati proprio a Coler. E questo è un importante risultato per l'amministrazione della comunità montana e per tutte e quattro le amministrazioni comunali della Val di Scalve. Di sicuro la stagione invernale è al sicuro? La stagione invernale è al sicuro, bisognerà fare le corse, stiamo già facendo questo e bisognerà aspettare ovviamente la neve. Anche quello è sicuramente un tassello molto importante, parliamo però di estate, l'estate che stiamo vivendo in questa settimana di Ferragosto, come va l'affluenza qui a Coler? Allora, a stima, guardando poi la gente, il paese, il centro del paese e anche le nostre montagne, nonostante che gli impianti siano chiusi, c'è un'affluenza che secondo me è molto più alta degli anni precedenti. Forse tutta una voglia di riprendersi, di lasciarsi alle spalle tutta la vicenda del Covid, nonostante si dica che l'inflazione è aumentata, i costi sono aumentati, però la gente ha voglia di venire in Val di Scalve e a Coler. Domani e sabato, Rovetta dedica due giornate alla conoscenza, alla celebrazione della sua più celebrata famiglia di artisti. In programma visite guidate, attività per bambini, concerti e incontri di approfondimento, sentiamo il servizio di Nicola Andrioletti. Luci sui fantoni nel fine settimana a Rovetta, due giorni dedicati alla celebre famiglia di artisti. Come nasce questa iniziativa? Qual è il suo obiettivo? L'iniziativa nasce grazie all'impegno dell'amministrazione comunale di Rovetta e del sindaco, il dottor Mauro Marinoni, che hanno partecipato al bando di famiglia in famiglia, appunto, voluto da provincia di Bergamo e sostenuto da Regione Lombardia. Vinto il bando è stato tutto l'impegno nostro riversato nell'organizzazione di questa due giorni che vuole appunto mettere luce sui protagonisti di questa famiglia, però diversificando quindi la parte artistica, mettendo luce sui fantoni maestri scultori, ma anche sulle generazioni più vicine a noi, quelle generazioni che hanno portato alla formazione e alla conservazione delle raccolte che oggi noi possiamo ammirare nella Casa Museo Fantoni. L'impegno naturalmente nell'organizzare una due giorni così intensa e di questo tipo è stato forte e desidero vivamente ringraziare Claudia Beccarelli che è presidente della Commissione Biblioteca di Rovetta, che è sicuramente la persona che più si è spesa perché tutto possa funzionare al meglio in questi due giorni e naturalmente vi aspettiamo numerosi perché gli appuntamenti sono molti, diversificati e credo che possano soddisfare le esigenze di tutti. Diamo uno sguardo a questi appuntamenti, come saranno queste due giornate? Allora, nelle due giornate si ripetono le visite guidate che si differenziano dalle nostre perché saranno combinate, quindi riguarderanno la Casa Museo Fantoni ma riguarderanno anche la parrocchiale di Rovetta, quindi si potranno vedere i luoghi dove le opere hanno avuto la loro genesi, dove sono state create, formate, progettate dai maestri Fantoni e poi si potranno vedere in chiesa le realizzazioni, come si sono conservate, come si sono soprattutto svolte attraverso i secoli perché nella parrocchiale di Rovetta abbiamo esemplari che partono dal XV secolo e arrivano a tutto il diciottesimo. Accanto a questi appuntamenti, a questi cicli di visite guidate ci sono degli appuntamenti più di svago diciamo e abbiamo riservato a questi un concerto di quattro arpe celtiche con voce maschile, quindi un concerto piuttosto inusuale che credo possa soddisfare molti intenditori. Nell'ultima giornata invece ci sarà una conversazione, questa volta riguarderà la sottoscritta quindi da parte mia e cercherò di spiegare proprio quali sono state le personalità della famiglia sia sul versante artistico che sul versante della formazione delle raccolte, come dicevo prima, e della Casa Museo. Naturalmente la Casa Museo svolge la propria attività, la riprenderà domenica regolarmente e noi proponiamo visite guidate, solo visite guidate e sono visite guidate specialistiche che portano a una conoscenza completa dell'attività dei maestri santoni. Da Rovetta a Valbondione perché il maltempo ha costretto a rinviare diverse iniziative in calendario nelle fine settimana, ma confermatissima resta chiaramente l'apertura delle cascate del sedio e una mostra fotografica che offre l'occasione di un viaggio del passato. Vediamo il servizio. Ci troviamo all'ufficio turistico di Valbondione, vogliamo parlare degli eventi di questi giorni, però iniziamo a dire come sta andando l'estate anche dal punto di vista delle presenze. È una bella estate, molto affollata, tante famiglie, tante famiglie nuove, tanti ritorni e quindi ci piace pensare che gli affezionati hanno sparso la voce e hanno un po' coinvolto tutti. E con gioia abbiamo anche riaccolto tantissimi stranieri, anche da Israele proprio quest'ultima settimana, quindi ci piace che il mondo capiti un po' qui. Dopo un'estate di sole e caldo è arrivata anche la pioggia che ha costretto ad alcuni cambiamenti di programma. Sì, questo fine settimana le cose cambiano un pochino. Abbiamo rimandato la Mangia Corta, quindi la camminata alle Baite di Redorte a Salva Secca, prevista per il 19 al 4 di settembre, quindi c'è ancora tempo per iscriversi. Poi abbiamo rimandato la camminata culturale storica che si chiama Le Croci delle Donne al 17 di settembre e per ultimo lo spettacolo teatrale in collaborazione con Teatro Minimo con Infinito Affetto verrà rimandato a data da destinarsi, quindi dovete tenerci d'occhio per vedere quando sarà la replica. Non sono invece rimandate le cascate? Assolutamente no, speriamo in una domenica di sole sole sole, l'apertura sarà dalle 11 alle 11.30, quella tradizionale, con la chiusura diciamo di una parte di estate, poi vi aspettiamo per l'altra parte. E chi raggiungerà Valbondione in questi giorni, anche il 21 per le cascate, potrà fare un viaggio a ritroso nel tempo grazie a una mostra fotografica? Sì, è stata allestita dalla biblioteca di Valbondione presso le nostre scuole medie, quindi al piano terra in via San Lorenzo e racconta un po' chi siamo stati. C'è una sala dedicata a Valbondione, una alle frazioni, quindi Lizzola, Fiume Nero, Gavazzo e Mola, e una dedicata alla diga del Barbellino, che presenta sia fotografie della costruzione della diga, che sono state prestate da Enel Green Power per questa iniziativa, e anche un po' un modo per rivedere la diga quando è stata costruita, che assomiglia un po' a questa estate, visto che il bacino si è svuotato. Ed è un'occasione per riprendere un po' la nostra tradizione, il nostro passato, e scoprire anche quando sono state scattate alcune fotografie, magari qualcuno che passa da noi riesce a ricordare qualcosa, perché non tutte quelle che abbiamo trovato ristrutturando i locali della biblioteca sono datate o hanno la didascalia, quindi è un modo anche per condividere la memoria storica del paese con tutti. Quando si può visitare la mostra? Tutte le sere, dalle ore 20 alle ore 23, fino a domenica 21 agosto. Tra gli appuntamenti del fine settimana, tra la Valle Seriana e la Val Brembana, c'è una due giorni dedicata alla scoperta del fascino delle mali e dei formaggi dell'Alpe. Sentiamo Nicola Andrioletti. Orobie Style, la community nata per promuovere e valorizzare il territorio orobico sotto un unico brand sta cercando di portare un nuovo modello di turismo. Che parte da quale concetto? Vuole innanzitutto essere, il nostro payoff lo dice, natural experience, è proprio il concetto di fare delle esperienze. Il nuovo modello di turismo su cui stiamo lavorando è proprio quello di dare al turista la possibilità di fare esperienze nuove che un tempo erano un po' i mestieri del nostro territorio. Oggi diventano praticamente, ormai sono diventate delle vere e proprie attrazioni turistiche. Ecco che noi vogliamo andare a far sì che le malghe non siano più solo ed esclusivamente legate all'allevatore e all'allevamento, ma diventano attrazioni turistiche. Ecco, sabato e domenica che cosa c'è in programma? Sabato faremo proprio questo primo weekend, diciamo, dove si andrà a cena al rifugio Alpecorte, al mattino presto, proprio al sorgere del sole, andremo praticamente alla malga, questa malga Nel, che è la prima malga amica che Orobby Style ha preso come appunto come modello e lì apprezzeremo il paesaggio incantevole delle nostre Orobby, apprezzeremo il sorgere del sole. Il sorgere del sole è naturalmente abbinato anche a un concetto enogastronomico e avremo la fortuna di avere lì a prepararci la colazione con tutti i prodotti della montagna, per cui valorizzare il prodotto fatto in montagna. avremo appunto il latte appena munto della malga, avremo i formaggi della malga, avremo i prodotti in chiave di miele, marmellate, erbe e così via. E sarà una colazione guidata? Sì, in effetti la colazione avremo proprio la fortuna di avere dalla contrada Bricconi Michele Lazzarini che ci farà lui questa colazione speciale con tutti i prodotti della montagna, sarà lui a guidarci appunto ad apprezzare quello che la montagna ci dà anche in chiave gastronomica. E poi la giornata continuerà? Sì, effettivamente poi la continueremo con il viaggio alla malga di Mezzeno, dove avremo la possibilità di vedere appunto anche lì i formaggi DOP della Val Brembana, dove apprezzeremo praticamente questa altra malga in montagna della Val Brembana ed è proprio qui il progetto vuole proprio, è proprio questo, quello di unire, di far diventare, fare rette, far diventare le nostre malghe davvero su questi praticamente intervallivi, percorsi intervallivi che stiamo valorizzando, farle diventare veri e proprie attrazioni turistiche. È un weekend di eventi nella nostra Valle Seriana e Val di Scalve, sì, ci spostiamo proprio in Val di Scalve a Schilpario perché grazie ad ATS, associazione turistica proprio del paese Scalvino, si organizza per sabato un silent party e per domenica la festa del latte. Sentiamo di cosa si tratta. Ci saranno due eventi molto importanti che andranno non a chiusura della stagione ma a coronare quello che è la stagione, poi ci saranno altri eventi successivi. Quindi abbiamo sabato sera, importantissimo, silent party per giovani e anche meno giovani, un divertimento per tutti. Inizieremo alle ore 21 con musica ascoltabile per tutti. Alle 23, quando calano ormai le tenebre, avremo musica in cuffia, tre canali, quindi avremo tre DJ a disposizione e ci sarà tanto divertimento perché anche per chi non ha mai provato un silent party ci sarà da divertirsi per tutti. La cosa importante, bisognerà, sarà meglio ovviamente, iscriversi entro venerdì perché iscrivendosi entro venerdì si avrà un piccolo sconto e una consumazione a 13 euro. Il giorno successivo si potrà venire fino alle 21, alle 22, insomma un po' quando si vuole, entro le 22 sarebbe meglio. Le due cose saranno separate, quindi si pagheranno 10 euro per la cuffia e i cocktail successivi che saranno per tutti, avremo anche dei cocktail analcolici, a 5 euro ogni cocktail. E invece su questi prati verdi cosa succederà domenica? Allora, su questi prati verdi domenica un altro evento molto importante, un evento per tutti dove ci aspettiamo soprattutto molti bambini. L'evento è la festa del latte, domenica 21, quindi con un casaro molto bravo della latteria sociale di Vilminore. Lui ci farà capire come si farà il latte, quindi a partire dalla mungitura, cagliata del formaggio e poi i bambini avranno una serie di laboratori molto divertenti, tra cui un laboratorio bellissimo perché ci ho provato anch'io, farsi il burro, quindi i bambini potranno farsi il burro e poi farsi un panino con burro, zucchero e quindi una merenda molto molto divertente. Tutta una serie di laboratori, l'elenco è lunghissimo e soprattutto avremo quelli che sono gli animali della fattoria, quindi mucche, capre, un'asinella, un vitello, un e avremo anche uno special guest che arriva da Cusone, quindi l'alpaca, quindi avremo anche la special guest tra i nostri amici animali. E non solo, ci sarà anche una gara di sfalcio, dico bene? Una gara di sfalcio, sì, tutta da vedere perché torniamo indietro nei tempi, ma qui ci sono ancora persone, soprattutto giovani, pronti a sfidarsi proprio su questi campi, qua sopra ci sarà una gara di sfalcio, divertentissima, vedremo che cosa succede, ci saranno ovviamente competizione e soprattutto un piccolo ritorno al passato. E come ogni chiusura del nostro telegiornale io vado a leggervi quelli che sono i programmi della nostra emittente per questa serata. Alle 20 c'è Paddock, alle 22 Work in Progress, alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23.05 Hard Track, alle 23.45 il Sasso nello Stagno e alla mezzanotte 30 come ogni sera, la terza edizione del nostro telegiornale. Veniamo all'Almanacco perché domani è venerdì 19 agosto, il sole sorge alle 6.20 e tramonta alle 20.28, il cumine alle 13.24, la durata del giorno è di 14 ore e 8 minuti, la luna sorge alle 23.56 e tramonta alle 16.02 del giorno successivo. La luna è calante e ci troviamo nell'ultimo quarto. La chiesa ricorda San Mariano. E anche per questa sera il nostro telegiornale finisce qui, io vi ricordo che al termine della nostra edizione c'è l'appuntamento con il Met e la nostra rubrica classica, ma non troppo. Vi ricordo che potete rimanere in contatto con noi anche scrivendoci una mail a redazione chiocciolantenna2.it seguendo il nostro sito internet myvalley.it oppure i nostri canali social Facebook e Instagram. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata. Ciao! 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 Ciao!